Nuovo aggiornamento amici del centro meteo italiano sulla lunga fase di bel tempo che interessa la nostra penisola dovuta all'anticiclone bene stesso su paesi centro meridionali del vecchio continente. Anche nella giornata di venerdì 7 luglio attendiamoci condizioni meteo tipicamente estive con cieli sereni da nord a sud e caldo a fosso nelle ore centrali della giornata. Con l'ausilio della grafica accanto vediamo il dettaglio della previsione. Al mattino generale stabilità con cieli sereni da nord a sud salvo innocue nubi sulle regioni di nord est. Nel pomeriggio si rinnovano le condizioni di bel tempo su tutta la penisola con cieli sereni o il più poco nuvolosi. Da segnalare soltanto qualche isolato temporale sui settori alpini orientali e del piemonte. Condizioni di generale stabilità anche in serata e nottata con cieli sereni su tutte le regioni italiane salvo qualche addensamento nuvoloso sulle alpi. Ennesima giornata all'insegna del bel tempo con tanto sole sull'italia ma anche caldo intenso con le temperature previste in aumento sia di notte che soprattutto di giorno con punte di 37-38 gradi sulle valli e sulle pianure del centro. Specie tra la Toscana, Umbre e Lazio. E con questo è tutto per oggi. Consultate maggiori dettagli sulla vostra città scaricando dal nostro sito la nuova app Meteo. Un saluto dal Centro Meteo Italiano.